Scontro frontale ad Arezzo tra due auto. Un uomo di 73 anni ha perso la vita a una donna di 40 e in gravi condizioni. È accaduto alle 14 e 15 in Viale Don Minzone la circonvallazione della città. Il 73enne è stato trovato in auto in arresto cardiaco e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove nonostante gli interventi di rianimazione è deceduto poco dopo. La donna che era alla guida dell'altra auto, una quarantenne, è stata trasportata sempre all'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso. Sul posto un'automedica, due ambulanze della misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Secondo i primi rilievi, una delle due auto pare abbia invaso la corsia opposta per cause ancora in corso di accertamento.